ragazzi ho dato il nostro albero, vabbè poi ve lo faccio vedere acceso, c'è anche il treno, vero mamma? e poi c'è quello che a dare gli fa un po' paura che bello e anche il treno lo vogliamo accendere? sì non lo so come si accende ammo come si accende? ammo non cammina eccolo vai 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 il calendario dell'avvento numero? numero? uno no uno già l'abbiamo aperto quello dobbiamo aprire il numero? il numero? questo qua 9 vai prendilo no è piccolo e guarda cos'altro c'è metti la manina la palla di cioccolata e per aprire questo andiamo a aprirlo dai vai vai apri apri che cos'è? macchina rossa macchina rossa eh che bello ti piace a mamma? sì e mandami un bacio mua e la cioccolata subito com'è questa cioccolata? cioccolata e macchini? guardate come metti la manina sotto che non fa cadere la cioccolata cioè brava amore mi ti ha insegnato mamma ma no quando è buono grazie eccomi qua benvenuti in questo nuovo vlogmas tra l'altro volevo iniziare questo video ringraziandovi tantissimo per tutti i commenti che mi avete lasciato sotto al vlog precedente mi avete spinto voi a fare un nuovo vlog e oggi è una giornata speciale perché tra un po' andrò al concerto di Alessandra Amoroso e spero di svagarmi un po' di divertirmi un po' vi faccio vedere il make up che ho fatto ho utilizzato ovviamente come base tutti i prodotti del mio cofanetto che tra l'altro trovate scontato al 25% su Carlita Shop e poi come make up ho utilizzato tutti i prodotti Nabla che trovate sempre su Carlita Shop ho messo il rossetto già so che me lo chiederete il rossetto è questo qua Berry Cal è bellissimo di questa nuova collezione di rossetti di Nabla che stiamo vendendo tantissimo su Carlita Shop e adesso vado al concerto vi porto con me quindi vloggerò vi voglio far vedere anche l'outfit ho scelto questa maglia che praticamente è anche un top perché non so mai come vestire i miei concerti questo magari se fa caldo mi tolgo il giacchettino e sotto questo pantalone fatto tipo di sottile è sottile però è fatto tipo come si dice non so come si dice comunque vabbè sotto ho messo gli stivaletti tanto tanto comodi tra l'altro ragazze potete venire sul mio profilo Vinted perché ho messo un sacco di i miei vestiti sto facendo decluttering un po' li sto dando via li sto regalando però ho aperto anche una pagina Vinted perché in tante me l'avete chiesta mi trovate sempre come Calità Dolce venite a dare un'occhiata adesso andiamo perché se no si fa tardi non vedo l'ora perché è una mia scelta ed è sempre lì a rimproverarmi col dito quando faccio una cazzata e io la sento la sento molto e la sento forte ci facciamo un super mega duetto ci state? ok ok musica mai musica mai grazie 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 a tutti un applauso a questi meravigliosi ballerini alla mia band a tutte queste persone a voi big grazie alla sicurezza grazie la ragazza comunque è rientrata tutta tosse buonanotte a tutti buonanotte a tutti grazie la tazza di natale nel vlog ma per forza c'è pure la tazza di natale vediamo mi ha portato questa è una rosa bellissima sto facendo colazione ha portato anche la stella di natale qua ragazzi e mi mangio il mio pacari con la cioccolata se oggi giornata di pioggia per una meteoropatica come me brutto brutto però cerco di darmi ebbè mi sono fatta le unghie di natale ma si sono già saltate due infatti devo tornare ad aggiustarle però sono molte belline comunque cerco di tenermi su con i colori avendo fatto l'armocromia i colori che mi stanno bene che sono forti quelli forti brillanti infatti anche questo rossetto che è uno di Nabla che lo trovate su Carita Shop tra l'altro abbiamo messo la promo infatti oggi è un giorno un po' di fermento per noi sono fuori i magazzini Carita Shop adesso entro siamo pieni di pacchi perché abbiamo dato l'annuncio su IG e su TikTok della promo e quindi stiamo ricevendo tantissimi ordini la promo di Natale poi in questo periodo si fanno tanti ordini appunto per i regali di Natale eccetera quindi siamo un po' in fermento per i tanti pacchi comunque questo rossettino vi ve lo consiglio è proprio buonissimo noi questi qua nuovi di Nabla li stiamo vendendo tantissimo su Carita Shop perché sono matte e hanno una lunga durata questo che ho io si chiama Rocket Fuchsia è molto molto bello e tra l'altro dura tantissimo sulle labbra però non le secca a differenza delle tinte comunque sono veramente belli sono molto bello tanti questi rossetti e comunque il concerto di Alessandra è stato bellissimo ragazzi veramente veramente bello emozionante bello ci voleva e niente io dopo il vlog che ho fatto mi sono sentita subito meglio infatti perciò ho deciso di farne un altro adesso c'è la bellissima sorpresa della promo ve la dico pure qua su YouTube così potete approfittare perché abbiamo messo il 25% di sconto con una spesa minima di 99 euro se invece volete spendere di meno allora avete il 20% quindi 25% di sconto Natale 25 spesa minima 99 invece senza spesa minima Natale 20 avete il 20% su tutto ed è una bellissima promo perché appunto vi dà uno sconto grande se volete fare i regali di Natale tra l'altro abbiamo anche tutte le confezioni natalizie che sono tutte scontate già al 25% di sconto aspettate che mi messaggiano chi è? armi allora ragazze vi dicevo tutte le confezioni quelle natalizie che potete fare i regalini sono già scontate al 25% in più avete questa promo di Natale quindi approfittate mi raccomando ordinate adesso per ricevere il pacco entro Natale in più avete anche l'omaggio mi sono dimenticata di dirvi questa cosa avete anche un regalo un prodotto omaggio che vi mettiamo nel pacco come regalo di Natale da parte nostra e poi avete anche la nuova cartolina che adesso vi faccio vedere quella natalizia mi raccomando ordinate adesso perché i corrieri alla fine si incasinano e non vi arriva più i tempi di consegna sono un po' più lunghi quindi ordinate adesso ordinate adesso in due o tre giorni il pacco vi arriva quindi state tranquilli e ci avete tutto per Natale va bene ragazze? adesso entriamo dentro così vi voglio far vedere le nuove cartoline e voglio sapere da voi cosa ne pensate ragazze nei magazzini Calita Shop guardate quanti pacchi la promo di Natale vi sta piacendo tantissimo adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa guardate nuove cartoline che stiamo mettendo nei nostri pacchi di Natale cioè bellissimo questo io e Armi abbiamo deciso di fare la foto in blu e argento e spero che vi piaccia poi dietro c'è la dedica per voi e queste le stiamo mettendo nei vostri pacchi e poi ci stiamo mettendo anche cioccolatini guardate quanti bei cioccolatini per voi cioè stiamo facendo un pacco bellissimo pieno di cioccolatini la cartolina poi tutte le striscioline argento bellissimo e qua abbiamo tantissimi pacchi pronti per essere spediti ordinate con la promo di Natale approfittate ve lo scrivo anche nel box informazione comunque basta che venite su Calita Shop e trovate tutto scritto nel banner gli metti Calita Beauty sono scontati al 25% quindi li abbiamo scontati a uno sconto grandissimo solo per Natale per darvi la possibilità di regalarvi regalarveli autoregalarveli e regalarli quindi approfittate per prenderli per Natale perché poi non saranno mai più scontati così tanto guardate che belle le nostre striscioline che stiamo mettendo nei vostri pacchi queste me le sono fatte da non so dove perché le volevo troppo ovviamente voi le riciclate le mettete nei pacchetti le mettete sull'albero ma sono troppo belle cioè sembrano veramente d'argento e così prepariamo tutti i vostri pacchi questi sono già stati riempiti vedete quante belle confezioni ci sono natalizie sono belle queste bustine da mettere sotto l'albero sono molto molto carine queste poi ci sono anche le candele sono anche belle come di a regalo queste qua anche sono belline sono un sacco di belle cose mamma mia che bello we wish you a merry christmas la tazza anche un ottimo regalo per Natale e qua stiamo facendo i nostri pacchettini anche questo facciamo vedere questo è anche bello come regalo di Natale questa profumazione bellissima del Sony adoro scrub bagno doccia e crema vai i prodotti carlita beauty ovviamente sono i più belli da regalare perché veramente vi cambiano cioè cambiano la pelle alle persone a cui le regalate vai le nostre striscioline poi i cioccolatini eccoli qua guardate quanto sono belli colattini che bel pacco l'omaggio il regalo omaggio per voi questi qua che vi abbiamo fatto personalizzati per il regalo di Natale dovete solo ordinare e ricevere questo meraviglioso pacco a casa adesivo carlita shop guardate che bello e per finire il profumo ovviamente immancabile con che delicatezza guardatela quanto è brava la cartolina carlita shop con carlita che vi manda tante good vibes inghiette rifatte sto aspettando Dario che mi raggiunge guardate quanto sono belle vedete pure questa altamano sono stupende potrete potete anche prendere ispirazione perché secondo me sono troppo belle fatte così con questi glitterini a french sono stupendissime vi piacciono per Natale ma anche per Capodanno adoro ragazze io amo tutte queste cose mamma mia quando andremo nella casa nuva me ne devo comprare tantissime sono stupende guardate tutti dei villaggi piccolini sono troppo belle beh questo negozio è bellissimo ce n'ha un sacco guardate questo che scia non adoro la festa di vattinaggio sono stupendi in questi giorni cioè qualche giorno ci sarà la cena carità shop con tutti i dipendenti sto cercando un abitino di Natale cioè vorrei tipo sul rosso però le vetrine sono solo con l'argento vi faccio vedere quindi praticamente abbiamo fatto bene a fare la cartolina e tutte le decorazioni del parco Argento perché si porta tantissimo all'argento guardate cioè è bellissimo però mi sembra più da Capodanno che da Natale è arrivato il mio amore amore ciao ciao ragazzi che vuoi dire al pubblico di Youtube? ma sono troppo bene guardate mamma mia dici un augurio per Natale ragazzi questo è un anno particolare perché stiamo uscendo dal Covid è vero dopo due anni ci possiamo riunire tutti però con cautela sempre con le crauzioni le crauzioni le crauzioni le dovute precauzioni vabbè fai gli auguri scusa auguri di buon Natale e buon anno a tutti vi aspettiamo su Carlita Shop bravo fate regali su Carlita Shop bravo vi aspettiamo perché ci sono tante cioccolate è vero tanti cioccolatini vi aspettiamo per fare tanti pacchi in in amore appena ho preso questo Papa Natale sull'arena che cammina per il regalino dell'avvento di Daniel che me ne mancava uno cammina è troppo troppo bello invece questo si muoveva così che bello ho finito tutti i pacchettini amore abbiamo finito tutti i pacchettini si ho visto tre soldi stasera ho fatto la parigina l'ho fatta io guardate come è bella adesso la vado a tagliare mentre loro vedono la partita e poi qua invece ci sono i panini napoletani li ho fatti sempre io ve li faccio vedere Daniele sta mangiando le pizzette mentre vede Pinocchio che sceva è nato Pinocchio vero? poi sono queste pizzette buone? buone le mandate quattro tre spettacolo è troppo troppo invitante ce la mangiamo mi è riuscita proprio bene su tik tok pure ho pubblicato il video fatemi sapere se volete un tutorial vabbè ma è semplicissima mamma mia date qua troppo invitante questi sono i panini napoletani ovvero pagnottielli mamma mia come li amo guardate qua che bella cenetta cioè cosa c'è meglio di questo mi dovevo mangiare il petto di pollo ma ciaone raga sono troppo buoni se volete vi faccio il video tutorial su tik tok grazie allora praticamente sono venuti in me a cena e è stata una bellissima serata perché non so voi ma io amo queste serate in cui in famiglia con amici infatti poi settimana prossima la faremo anche con gli amici in cui cucino io mi piace tantissimo stare in compagnia così e sapete che ormai chi è che mi conosce mi segue da un sacco di tempo sa più o meno quali sono le cose che un po' a me mi affliggono e comunque mi fanno stare male ovviamente sotto natale si fanno sentire un po' di più queste cose perché cioè sono delle cose che non vi ho mai detto ma implicitamente comunque lo sapete che cos'è che mi fa stare male ad oggi vi posso dire che sicuramente la cosa che che sicuramente più bella senza dubbio che veramente non apprezzo e stare in armonia con la famiglia con gli amici festeggiare ma anche fare cose semplici non per forza fare viaggi andare chissà dove anche stare in casa e quindi io per noi sarà un natale così mi auguro anche a voi che sarà un natale così bello ma semplice all'insegna delle cose semplici e comunque che sono le più belle io questo è il messaggio che posso darvi di stare veramente in armonia e in con più persone possibile perché comunque è quella la cosa secondo me quella la cosa più bella in assoluto ovviamente quindi il mio augurio per voi è questo anche se comunque farò altri vlog prima di natale se voi volete io qua sto tanto bene con voi quando faccio vlog mi sento di nuovo rinata perché comunque sapete che è una passione per me quindi se vi fa piacere farò altri vlog anche prima di natale magari ad esempio avrò la cena aziendale con i ragazzi del team carita shop avrò diversi eventi a cui sono invitata per natale porterò daniele a vedere il villaggio di babbo natale quindi sicuramente ci saranno cose da vloggare fatemi sapere se vi fa piacere lasciatemi un like al video tanti commentini vi aspetto su carita shop fuori i vostri ordini mi raccomando seguitemi su ig e anche su tiktok vi mando un bacio e un abbraccio fortissimo ciao